penso che stia andando bene la vendita comunque la distribuzione del libro sul tunnel di luce alla trappola della reincarnazione perché io così come l'ho scritto da solo lo distribuisco da solo non ha nessuno che mi promuova nessuna agenzia pubblicitaria o casa editrice quindi credo che sia andando molto molto bene sono contento che queste idee circolino questa forma di consapevolezza stia circolando che le persone si interroghino su questo fatto qua perché io l'ho già detto l'altra volta io non sono depositario di nessuna verità io sono ricercatore al momento ho trovato queste queste informazioni che reputo veramente molto molto interessanti sotto qualsiasi punto di vista e credo che come dire discuterle metterle come dire nella pubblica materia di discussione sia l'unica maniera una o una delle migliori maniere che noi possediamo per per verificare la tendibilità la credibilità di queste informazioni che ripeto provengono davvero da molteplici fonti molteplici metodi di studio di indagine per scrivere libro incrociato tantissimi dati tantissime tantissime persone ricercatori medium e ipnotisti e quant'altro per giungere allo stesso risultato questo risultato ha una sostenibilità si sostiene davvero in maniera molto forte cioè è sotto praticamente tutti i punti di vista inattaccabile perché realmente spiega spiega comunque è in qualche modo compatibile con ciò che noi con ciò che noi osserviamo nel mondo e dunque dunque val la pena davvero considerare seriamente riflettere seriamente su questa su questo tema su questa tematica vorrei passare a parlare ora di che cosa accade nel tunnel perché l'argomento l'argomento fulcro l'argomento principale che cosa accade nel tunnel che cosa accade nei tunnel vorrei leggere un breve estratto delle di un'ipnosi fatta dal canale di cuore di anime da gavriere grossa che tra l'altro è un mio amico con quali mi sono confrontato per anni sono anni che che mi confronto con lui su queste ipnosi su questo argomento e passiamo alla lettura e no vorrei dire anche che lui è seriamente lui è stato molto attaccato da variate persone variate correnti sbagliati gente che segue dei filoni di questa ricerca e si sente assolutamente tranquillo crede di aver fatto il giusto di non aver cercato di ingannare nessuno di averlo fatto in maniera chiara limpida cristallina mettendo la disposizione di tutto così come libera disposizione di tutti poi fatene quello che volete secondo voi il tunnel di luce la via verso dio secondo volto nel luce non esiste secondo voi il tunnel di luce è solamente su una bassa frequenza astrale di cui voi siete sommamente superiori o il tunnel di luce ci si rincarna perché è così che vuole dio e la provvidenza divina la legge del karma perché qua è una scuola fate un po come vi pare il mio intento principale è quello di poter verificare la veridicità di tutto ciò io spero di avere tanti anni per poterlo fare penso che sia la cosa più importante da fare e dopodiché metterò al corrente le persone che se ne vorrebbero andare di qui e a questo proposito piccola parentesi da quello che emerge e che non è l'anima che se ne deve andare di qui ma lo spirito l'anima ecco ecco lei è l'elemento che in qualche modo fa in modo che lo spirito venga attratto qui e dunque l'anime l'anima è partecipe di questa creazione demiurgica serve allo scopo di questa creazione demiurgica mentre lo spirito è imprigionato qui mediante l'anima e dello spirito che se ne deve andare di coloro che l'anima l'anima accetta l'anima qua l'anima può darsi pure che l'anima sia lì impassibile ad accettare tutto ma lo spirito no e sicuramente non lo spirito mio lo spirito della gente come me io non posso accettare se questa è la verità è quella che mi sembra se questa è la realtà io non l'accetto non l'ho mai accettato e non l'accetterò mai non accetto di essere imprigionato qui con il mio potere annullato con la mia memoria storica di tutta la mia di tutta la mia esistenza annullata questo oblio di cui l'esoterismo parla e che è che giustifica in funzione delle dell'evoluzione scolastica di questo mondo a me non mi convince non mi ha mai convinto non mi entra proprio in testa che che possa essere spiegata così l'assenza della memoria che noi subiamo in questo mondo che ha avvolto nell'amnesia e sottoposto all'ipnosi per poter per credere qualsiasi stupidaggine sia mai stata detta dunque leggiamo che cosa dice l'ipnosi perché gabriele gabriele che è il curatore di del canale cuore di anime con sciana che ecco lei che mette in ipnosi ci sono recati sono recati davanti al tunnel dove succedono tutte queste cose qua hanno preso il gestore il controllore e dice di chiamarsi etros in altri non si dice di chiamarsi in altri nomi ma infatti poi lui dice io mi chiamo chiamati in tanti modi ci chiamiamo in tanti modi comunque praticamente si brevemente ci si trovano si trovano dentro il tunnel di luce nel tunnel di luce quando tu entri che praticamente entri perché c'è una gravità una gravità che ti che che attrae l'anima lì dentro oltre a finti parenti defunti che che ti dicono di seguirli o madonna e santi vari che ti dicono di seguirli perché sarei perdonato e cosa del genere quando entri dentro il tunnel di luce praticamente ci si trova davanti a questa ampolla una specie di ampolla viene descritta così nei nostri termini umani e gabriele chiede ad etros scusa quell'ampolla che c'è lì a che cosa serve etros risponde serve ad annullare qualsiasi forma di memoria possa esistere nella mente della persona che in questo momento momento è venuta a mancare gabriele adesso etros a che cosa serve togliere la memoria ed etros risponde noi togliamo la memoria soprattutto delle vite delle varie anime che vengono verso di noi e vengono intrappolate ma le teniamo anche in incubatrice in quell'ampolla in questa ampolla nell'attesa di riuscire a creare nuove forme extraterrestri che possano vivere sui vari pianeti e che possono incorporare l'anima gabriele quindi è anche una forma di gabbia etros è una gabbia gabriele e come avviene l'annullamento della memoria etros attraverso una specie di forma di elettroshock dico così per farmi capire da voi vengono a morire tutte quelle cellule dell'anima è come un hard disk viene annullato e riprogrammato gabriele in questa nuova riprogrammazione cosa ci mettete dipende da quello che vogliamo che faccia l'anima sulla terra o negli altri pianeti gabriele facci qualche esempio etros partono già con una memoria legata alla massoneria per esempio alla politica o legata al terrorismo per al terrorismo per esempio dipende dalla situazione che vogliamo far accadere sul pianeta gabriele e poi con questa programmazione che cosa succede del suo pianeta etros che portano le anime a seguire una volta uscita dal corpo a seguire questo percorso sino alla luce per essere resettate nuovamente non riconoscono più la vera fonte praticamente un ciclo perpetuo è sempre così un ciclo perpetuo vengono portano le anime a seguire questo percorso sino alla luce al tunnel di luce per essere resettate nuovamente non riconoscono più la vera fonte il samsara praticamente il meccanismo del samsara della perpetua del ciclo delle rinascite delle reincarnazioni è un inganno che serve a scollegare dalla fonte a non far più riconoscere la fonte etros prosegue nella maggior parte delle incarnazioni si annulla completamente il percorso anche quello spirituale ma adesso molti hanno capito il gioco e molte anime lasciano entrare entità dentro di loro che le aiutano a ripristinare la loro memoria a riprendere consapevolezza e a non lasciarsi ingannare gabriele ma sono sempre entità di luce quelle che entrano nel corpo ci sono anche enti altre entità che mandate voi etros le anime vengono ingannate con tutto ciò che il sistema riesce a immettere nella mente delle persone poi prosegue abbiamo bisogno di tante anime in questo momento per poter fare i nostri esperimenti per portare avanti la nostra razza che non lega con lo stesso dna umano l'anima entra entra nel dna umano ma non nel nostro stiamo cercando di quantificare per sopravvivere poi gli chiede esiste qualcosa di buono nelle religioni no le religioni sono un'invenzione proprio di queste anime che sono state resettate sin dall'inizio per poter con questi messaggi subliminali di capi religiosi di far credere a queste religioni poi gli chiede quale sarebbe il singolo secondo lui che rappresenta le religioni dice il triangolo e chi sta sopra nel triangolo ci sta un occhio aperto e che cosa rappresenta che noi vi guardiamo noi e anche altri dunque questa è una breve parte di tutte le ipnosi che ho messo una parte molto significativa che descrive uno scenario inquietante no quanto meno allucinante che tuttavia noi dobbiamo tenere in considerazione perché questa non è una ipnosi queste sono migliaia di ipnosi che dicono la stessa cosa in tutto il mondo e io infatti quando sono venuto a sapere che c'erano che che esisteva questo problema della trappola della rincarnazione l'ho saputo da un canale youtube in spagnolo che si chiama rimbel 35 che tratta tantissimi argomenti uno è uno dei divulgatori più seguiti in spagna un milione e mezzo di follower fa video da una vita a veramente una delle persone con più capacità secondo me di vedere è veramente uno che vede anche se non ha particolari poteri psichici medianici eccetera lui è uno che ha l'intuito che possiede l'intuito e dunque una persona che seguo da tantissimi anni si chiama david parserisa e insomma fece questo video dove diceva il rasa della memoria la trappola di luce a questa cosa qua questo è successo a 4 5 anni fa e disse ci sono migliaia di ipnosi in spagna in america dove emerge questo fatto qua gli diede i nomi di questi ipnotisti così mesi a cercare da quel momento fino adesso che cerco delle risposte che cerco delle ulteriori evidenze prove tutto quello che esiste a riguardo affortunatamente in italia abbiamo queste ipnosi di più del canale di cuore di anime ne ha fatte tante anche calogero grifasi infatti c'è un'ipnosi di calogero grifasi che ho tradotto che ho trascritto nel libro e ce ne sono tanti altri malanga e tanti altri ho parlato anche con bergamaschi che è un altro che fa le ipnosi ha detto che ci si metterà presto che anche per lui questo qua è un argomento molto interessante però non l'ha ancora come dire sviluppato credo che col tempo questo argomento verrà verrà sviluppato verrà verrà sondato verrà indagato da quante più persone sentano l'esigenza di di far qualcosa rispetto a questa condizione a cui stiamo subendo perché non stiamo facendo altro che subirla ora uno può dire sì ma la mia vita non ho mai avuto problemi la mia vita è bellissima una bellissima famiglia sia bianca anche io nonostante io abbia attraversato diversi inferni nonostante io l'abbia vista veramente di tutti colori in questo momento ho la vita che ho sempre desiderato ma mi sono dovuto fare un mazzo così ho dovuto imparare centinaia di cose ho dovuto studiare tecniche di magia di transurfing più che altro legge di attrazione poi siamo passati al transurfing per poter fare quello che voglio senza dovermi dover impazzire come fanno diciamo le persone comuni però questo non toglie che la situazione per miliardi di persone sia quella che ha sia una situazione miserabile in cui il male ha una anche se questo mondo fosse fosse realmente polare come come credo come si crede il male ha una preponderanza schiacciante nei confronti del bene non si può nemmeno mettere su una bilancia perché la bilancia si rovescia e dunque le persone che dicono sì ma ci sono anche le entità positive che ci aiutano siamo aiutati veniamo guidati sì sicuramente sicuramente anche io vengo guidato sicuramente ho spirito guida sicuramente ci sono tutte queste cose qua ma non mi sembra che sia un aiuto e una forza equilibratice degna di questo nome insomma che l'equilibrio non ci sia non ci sia assolutamente mi sembra che la stragrande maggioranza delle persone faccia veramente una vita miserabile di cui non ha idea perché si danno varie spiegazioni si possono dare delle spiegazioni anche legittime che veramente la vita il karma esiste e dunque se tu ti comporti male hai quel karma lì se tu nasci in una famiglia col karma sbagliato te lo te lo te lo devi subire se tu nasci in una situazione non consona come fai a tirarti fuori e tante cose sicuramente certo però questo non toglie che abbiamo dei governi che tutto fanno meno che fare il bene delle persone abbiamo un'economia un sistema finanziario un qualsiasi tipo di meccanismo sociale che non fa il bene delle persone verso perché perché il male sta vincendo e io sono d'accordo con giordano bruno quando dice il bene vincerà quando il male si si convincerà e si illuderà di aver vinto però non credo che siamo che siamo molto vicini a questo non credo che ci siamo ancora non credo che vinceremo perché il male sia illuso di aver vinto non ci siamo ancora magari accadrà sono sicuro che potrebbe accadere sono con giordano bruno su questo e su molte altre cose ma non ci siamo ancora dobbiamo ancora fare molto dobbiamo ancora fare la nostra parte e credo che se questo fosse vero e secondo me in questo momento lo è magari fra dieci giorni dirò no sono tutte cazzate lasciate perdere mi sono sbagliato però in questo momento secondo me lo è credo che indagare questo problema risolvere questo problema nel senso di smantellarli questa macchinazione sia il più clamoroso atto di sabotaggio che si sia mai fatto alla potenza di minurgica la creazione di minurgica gli arconti e quant'altro credo che in passato si sia scoperto gli ignossici catari eccetera abbiano scoperto questo però non abbiano potuto fare molto anche perché comunque erano comunità molto ristrette che vivevano in zone quelle zone che vivono semidezzartiche e non avevano tutti gli accessi che avevano oio alla conoscenza nemmeno la possibilità di diffonderla cioè infatti rimanivano chiusi insatte oggi io già con semplici post e video già raggiunto moltissime persone ma io non sono mica l'unico ci sono migliaia di persone che stanno facendo questo che stanno cercando di promuovere questi discorsi di indagarli di espanderli di svilupparli in maniera tale che siano concepibili da chiunque e poi le persone che sono pronte che sono preparate che sono avanzate a tal punto o che ce l'hanno dentro questo spirito ne possano fare qualcosa e fare qualche cosa fare qualche cosa significa smantellarli sta macchina smantellarli sta macchina cioè non è concepibile dal mio punto di vista che ci sia un'autorità che stia facendo questo io non lo trovo concepibile per questo io ho coniato il termine o la corrente gnosticismo anarchico anarcho gnosticismo perché gli anarchici non possono accettare che vi sia un'autorità e soprattutto che vi sia un'autorità oppressiva e questa è un'autorità oppressiva l'apice l'apoteosi di un'autorità oppressiva e dobbiamo semplicemente sabotargli il loro ingranaggio il loro meccanismo il loro tunnel che poi sono due e dirgli che la festa è finita cioè fargli capire fargli intendere che la festa è finita perché seppure è vero che su 8 miliardi 100 non potrebbero bastare invece sì che è vero che possano bastare perché noi siamo immensamente più potenti degli altri gli altri dormienti che stanno lì anacquati oppure anche questi risvegliati dell'anima che che stanno lì in pace nonostante tutto anzi ti dicono ma no ma il male lo vedi le persone soffrono solo se ci tu poni l'attenzione ci sono persone che stanno soffrendo stanno morendo di fame stanno morendo di stenti di carestie di bombe di guerre di pestilenza di tutto quanto e non perché io ci pongo l'attenzione ma perché sta succedendo veramente cioè ma siete fuori di tasta sta succedendo veramente dunque quello che noi dobbiamo fare è renderci conto del nostro potere se noi non avessimo questo potere loro non potrebbero non farebbero quello che fanno perché loro ci vogliono succhiare il potere ci vogliono annullare il potere usarlo per il loro scopo perché siamo immensamente più potenti di loro perché se loro avessero questo potere non avrebbero bisogno di noi è tutto così chiaro così limpido così fin banale che dovete capirlo c'è chi lo può capirlo deve capire e quindi quando poi uno lo capisce il passo successivo è fare in maniera tale che questa cosa qua finisca io non so se noi siamo cioè se l'umanità io no perché non mi sento umano però se questa umanità autoctona di questo mondo e se in qualche modo noi dobbiamo riprenderci questo mondo non lo so ma potremmo anche farlo perché no questo mondo qua se fosse se fosse se si sbarazzasse di queste entità autorità parassitarie fisiche governi economia finanza eccetera corporazioni tutto quello che c'è se noi ci sbarazziamo di loro e ci sbarazziamo del dell'autorità arconte dell'autorità aliena dell'autorità invisibile questo mondo diventa un paradiso diventa un paradiso in cui noi possiamo vivere come sarebbe lecito aspettarsi di vivere in un mondo cioè se per voi è lecito aspettarsi vivere in un vivere così in un mondo significa che siete fuori di testa secondo me non avete veramente pochissimo autostima avete pochissimo rispetto di voi stessi avete messo la vostra dignità sotto i piedi se fosse questo è il vostro livello significa che forse lo è davvero forse lo è davvero però non è il mio non è quello di tanta altra gente che vorrebbe vivere in un posto migliore e questo posto migliore lo diventa solamente se facciamo qualcosa ognuno ha la sua maniera di fare qualcosa e questo siamo d'accordo c'è chi medita c'è chi fa la carità c'è chi si comporta bene con tutti c'è chi fa volontariato milioni di cose chi alza la vibrazione che semplicemente nell'essere fa qualcosa però c'è anche chi ha la capacità come dire di esprimersi di condividere di rendere consapevoli gli altri capacità di far qualcosa di concreto come dire materiale e va fatto dobbiamo farlo e ora il momento se no mai più se no mai più dobbiamo quantomeno provarci e se non ci riusciamo quantomeno riuscire ad andarcene via cioè se questa è la via d'uscita o quantomeno poi è tutto spiegato molto maglia nel libro non c'è solo questo tunnel ci sono varie altre altre cose c'è un giardino ci sono altre entità ci sono altre situazioni che si possono creare e dobbiamo sondare dobbiamo indagare dobbiamo scoprire che cosa succede e chiunque abbia dei poteri abbia dei talenti che li metta a disposizione che lo faccia che indaghi questa cosa qua perché noi dobbiamo arrivare al punto dobbiamo saperlo è vero o non è vero e se è vero cosa possiamo fare quali sono qual è la più completa mappa di questo territorio che noi possiamo avere che cosa succede veramente quando noi ci liberiamo dal corpo che cosa ci si presenta davanti ai nostri occhi dobbiamo saperlo il fatto che le persone non solo siano domandate fino ad adesso o se lo stiano domandando da poco tempo a questa parte è l'esatta tara cognitiva e spirituale di questo mondo di questa umanità ridotta a livello della bestia manipolata e traviata in tutti vessata in tutti i modi possibili immaginabili per credere delle merite stupidaggi che non sono servite a niente e che non potranno mai servire a niente sono create allo scopo di mettere un occhio di che ci guarda e tutto ciò che facciamo per loro va bene perché comunque sia nessuno si vuole veramente liberare c'è coloro che pensano di liberarsi in innumerevoli incarnazioni ottenendo la perfezione l'illuminazione perfetta questi sono una persona ogni 800 miliardi che può fare questo gli altri che devono stare qua per sempre questo non è un metodo che funziona dunque io credo di aver detto queste cose qua come vadano dette poi c'è gente che si può mettere lì a cercare di fare il sermone ria pacificatore a me io l'ho detto io mi sento in guerra per me o sei dalla mia parte o sei dall'altra cioè se sei dall'altra non rompi i coglioni un conto se sei dall'altra anche a cercare di promulgare questa falsa per me sei parte del nemico come è successo in pandemia quelli che hanno quelli che hanno aiutato il governo a mettere le restrizioni mettere mascherine mettere tamponi mettere questo mettere quell'altro obbligare la gente ad avvelenarsi perché sennò non potevano andare al lavoro questo è successo perché le persone si sono messe dalla parte del potere consapevoli inconsapevoli ma perché così tanta gente ha aderito essendo la maggioranza hanno aderito alle disposizioni è stato possibile farle per tutti poi ci sono stati quelli che si sono ribellati nonostante tutto in questo caso lo stesso ci ribelliamo nonostante tutto mi ribello nonostante tutto potete tutti quanti pensare che ci siano delle entità angeliche che ci dicono è una scuola vai torne per il bene ma io non ti credo per me non sta bene a me nessuna entità angelica si deve permettere qualora fossero veramente entità angelica permettere di dirmi tu vai senza memoria in un mondo a patire le sofferenze e se ti va bene e se ti va e se hai un buon karma e se un buon destino allora magari ti risvegli e rincomincia a capire che qualcosa non quadra oppure come fare per andartene via no a me nessuno mi deve dire niente se mi devono dire qualcosa sono consigli perché la gente viene ricattata o ti reincarni o ti mettiamo ti mettiamo in stand by infatti vengono descritti anche queste queste questi luoghi in cui ci sono innumerevoli animi in stand by perché non sono volute andare nella luce non si sono volute reincarnare o sono lì per per tanti motivi perché comunque questa non è in realtà solo bianco nero c'è il tunnel non c'è il tunnel non c'è il tunnel non c'è il tunnel te ne vai ci sono tanti livelli di comprensione tanti livelli di esperienza che si possono fare i fantasmi esistono non c'è nessun dubbio che i fantasmi esistono non c'è nessun dubbio che ci sono che ci sia la sensazione che questi fantasmi siano intrappolati in qualche modo da qualche parte dunque ci sono tanti strati di questa realtà che dobbiamo indagare che dobbiamo scoprire poi è anche vero che ci sono persone che si reincarnano non passando dal tunnel di luce che si reincarnano con la memoria che si reincarnano ricordando perché si sono reincarnate che si reincarnano ricordando la vita passata e che non hanno passato questo questo macello è anche vero questo non è che le cose si escludono a vicenda però però questo accade questo accade in innumerevoli casi e questo quindi è un problema che potrebbe riguardare me potrebbe riguardare tutti ed è un problema che dobbiamo affrontare ma senza il minimo dubbio quindi chiudo qua questo video che ogni volta vorrei fare video di 7 8 minuti invece poi mi dilungo perché per me questi argomenti mi prendono e quindi niente chiudo qua ci sentiamo la prossima volta ciao